Siamo dati Gesù e Maria. Buonasera e carissimi, questa tredicesima domenica del tempo ordinario, che già studiiamo di sera, sottolinea la nostra attenzione due tempi. Uno, quello del primato dell'amore a Gesù, esplicitato nella prima parte dell'angelo che abbiamo ascoltato, e il secondo, che è quello dell'uomo, il tema dell'uomo di Dio. Abbiamo visto Eliseo, nella prima lettura, essere definito santo e uomo di Dio, e nel Vangelo abbiamo sentito Gesù, riferendoci a Dio, posso dire queste testatorie parole molto forti, Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Quindi nella riflessione di oggi, appunto di essere anticipato, volevo con voi riflettere e approfondire il tema dell'uomo di Dio, a raduce della lettura che abbiamo ascoltato. Chi è l'uomo di Dio? Come dobbiamo portarci nei confronti degli uomini di Dio? Ci aiuta un po', fratelli e sorelle carissimi, anche, la festa, la sunnità, meglio, la liturgia che abbiamo appena celebrato due giorni fa, il 29 di giugno. Che cosa è stata il 29 di giugno? La festa dei Santi, Pietro e Paolo. Come spiegavano, che la Chiesa preseggia insieme. Come spiegavano durante la nominia, Pietro è il capo della Chiesa Cattordica, che è il Viglio di Cristo, è, in altre parole, il massimo membro, se ci facciamo attenzione, della gerarchia cattolica. Ci sono i brevi, ci sono i vescovi, che stanno con i cardinali, che sono i vescovi, sono i vostri del Papa, c'è Paolo. Quindi il Papa rappresenta l'istituzione in Chiesa, giusto? E poi c'è San Paolo. Vi faccio una domanda, se vi faccio un po' di catechismo. San Paolo faceva parte di 12 apostoli, erano gli stessi 12 apostoli? No? E chi lo ha iniziato ad andare in giro? Soprattutto che San Paolo ha predicato un intero romano. Da dove esce San Paolo? Da dove esce? Chi lo conosce? Come sei ritrovato? Che è andato dagli apostoli? Guarda che io devo andare a me, il Signore fa affidato col fangelo per i pagani. Devo andare. Da dove viene questa cosa? Dove viene? L'ha ispirato lo Spirito Santo, quindi ci sono due modi con cui Dio opera nella Chiesa. Uno, attraverso gli apostoli e i loro successori, che rappresentano Cristo in terra, da un punto di vista oggettivo. Secondo, i santi, gli uomini che lo Spirito Santo ispira, suscita, chi è San Paolo? San Paolo è l'emblema di un San Francesco, per esempio, di un San Benedetto, di una madre palese di Caputti, se vogliamo metterci anche le donne per far condizioni giustissime. Cioè, tutte quelle figure di grande, di grande spessore, di grande santità, che sono state suscitate direttamente dallo Spirito Santo, senza che facessero parte della Cerechia. Chi è Elisero? Prima lettura. Elisero era un profeta, d'accordo? E, come dire, sì, ci sto rivezzo un pochino Elia, il nomine di Elisero, ma fondamentalmente mandato, per volontà di Dio, diciamo, alti fuori degli schemi istituzionali del popolo di Israele. Prima lettura, no? Io so che è un uomo di Dio, dice questa dama al marito. Prepariamo una piccola camera al piano di sopra il cielo. D'accordo? Uomo di Dio. Gesù, non ce lo ripeto, che accoglie voi, accoglie me, che accoglie me, accoglie quello che mi ha mandato. Allora, chi sono gli uomini di Dio? Io dobbiamo fare attenzione. Ci sono due livelli di identificazione degli uomini di Dio. Uno è oggettivo, è più facile. E un altro è soggettivo. Vi faccio una domanda. Secondo voi, un prete, state dicendo, è un uomo di Dio oppure no? Anche un prete, eh? Diciamo, vedete, il Papa, il Vescove, è un uomo di Dio oppure no? Vi siete voi e mi chiesti, perché un prete si chiama donno? Si chiamano donno, prete, vero? Perché bisogna chiamarlo donna? Perché è superbole, perché dice, eh, bisogna che mi chiamano donna. Lo sapete che donno, purtroppo, è un titolo che mi ha addomerato anche in altri ambienti, no? Eh? Lo sapete? Non salvato. Allora, che uno chiama un prete donno in questo modo? Perché sai, cioè deve essere uno che deve far sentire un po' l'autorità, allora bisogna chiamarlo donno. No. Sono loro che hanno un pianto. Non voi. Sapete cosa vuol dire donna, etnologicamente? Sapete cosa vuol dire? Donna è la forma sincopata di Dominus. Dominus in nativo che significa? Se dicessimo a me in nativo, per Dominus nostro, Gesù Cristo, Fino e Tu, per il nostro Signore Gesù Cristo. Cioè vuol dire che tu a me mi chiami Signore Leonardo. Ma non Signor Leonardo, come chiamiamo signor Francesco, signor Pasquale. Signore in senso stretto, cioè Leonardo e il Signore, attenzione, sono la stessa cosa. Bisogna capire bene in che senso. Non è che io sono un padre d'interno, né io, né io, né qualunque altro volete, ma nel momento in cui ricevo l'ordine santo, la mia persona è conformata a Cristo, Gato, Sacerdote e Pastore, per cui in alcuni atti che io compito, per esempio in quanto c'era probabilmente da poco, io sono il Signore. Ma non io, io, eh, capite? Questo non è io, perché sto parlando io. Cioè io da poco dirò, no, sull'altare. Cosa dico? Prendete e mangiate i luci. Questo è il corpo di Cristo offerto in sacrificio per voi. Dico così? Cosa dico? Dico questo è il mio corpo. Ma che se voi pensate che il nostro diventa il corpo mio? E se non diventa il corpo mio, chi è che parla in quel momento? Attraverso le mie labbra? E attraverso le mie persone? Chi parla? Gato signore. Quando vi do la comunione, che dico? Il mio corpo? Amen. Dico il mio corpo. Dico il mio corpo. Dico il corpo di Cristo. Perché? Perché nel momento in cui sono affrono di un uomo, sono il consagrato. Quindi sto distribuendo il corpo di Cristo. Quindi in quel momento sono io che vi do il Signore. Ma quando lo consagro, e il Signore è consagrato a me, d'accordo? Chi si è andato a confessare, c'è sempre un po' un teatro professionale stamattina, cosa dice il sacerdote quando li assolve? E il Signore li assolve i due peccati in nome del Padre e del Signore del Spirito Santo? Dice così? C'è levata attenzione? No? Dice così. Dice io li assorbo dove cade il Padre e del Spirito Santo? Allora, il peccato si è venuto a fare di Don Leonardo, di Don Chiavo. Cioè se uno dice una bestemmia, ho fatto di Don Don Chiavo. Non credo. E perché dice io ti assorbo di Don Peccato? Perché in quel momento non è Don Chiavo che sta parlando. È Gesù. Parla attraverso di lui. Mi seguite? Allora, quando io sto a dinarsi, io ve lo dico, non sto facendo una predica. Sapete che gli romani dice no, Cicero, prodomo sua. Cioè, Cicero se vai a fare i suoi, siccome volete un prete, ora se sta facendo la predica, no, no. Capite? Io questa la devo fare perché la devo fare anche per me. Anch'io devo trattare bene i prete, devo trattare bene i vescovi, devo trattare bene i paesi. Allora, nella gerarchia, Gesù dice in queste testo di parole, chi accoglie voi, accoglie me. attenzione che questi dodici che erano andati in missione, lo sapete che c'era anche? Lo sapete che c'era anche? Ah, lo sapete che c'era anche? C'era Giuda, non è? Non è l'epoca, chi accoglie voi, meno quel traditore di Giuda che tra poco mi metterà per 30 denari, accoglie me. No, 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 ha detto che accoglie voi, accoglie me. Punto. Giuda, quasi certamente, anzi, per quanto mi riguarda certamente, opinione mia, non c'è nessun annunziamento ufficiale, mi sembra una costanza ovvio, Giuda in paradiso non c'è andato e non era certamente un delio ministro di Dio, ma chi accoglie voi, accoglie me. Se Giuda avesse cercato la missa, avesse era effettamente magico, se Giuda avesse battezzato un bambino, il bambino era perfettamente figlio di Dio e il libro era da peccato di Gioia. Allora, dico tutte queste cose, perché oggi c'è un andazzo in giro, io lo vedo, dipendente da una scarsa fede, ma che è molto preoccupante, cioè c'è una leggerezza assolutamente estrema con cui ci si relaziona dinanzi a questa figura di uomini di Dio, diciamo così, istituzionali oggettivi, tarattenti. Se voi parlate facilmente male di un prete o di un parlo, spero di no, è spesso dicendo voi in senso personale, non siete gravi, molto facilmente uno comincia a parlare del vescovo, se c'è un vescovo, che non ti piace un altro problema, viene il testo antipatico, uno comincia a criticare, a cosa c'è, eccetera, e viene il Papa con questa attiva che è un testo simpatico, è uno di un po' 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 di un po'. C'è una difficoltà in me, d'accordo? E basta, firmo. I suoi, gli uomini di Dio, se è un uomo di Dio, secondo voi, chi è il giudicativo? Lo giudicativo. Non preoccupate che se il prete si comporta male, cioè si comportasse in modo indegno dell'altissimo ministero che ha, non preoccupate che c'è il mio favore. Ma lo favore, ma lo favore del brutto, non è compito mio, non è neanche compito mio giudicare un altro che può per me, né sopra di me. In giro oggi, vado a dire, delle persone che non so quanto sono sane di me, sono anche convintissime di rappresentare la tradizione santa della Chiesa, di difendere il magistrato della Chiesa, che spalano a zero, spalano a oiesese, spalano online, a destra e a manca da tutti, i vescovi, i cardinali, del Papa, del Pagliari. E lo fanno in nome della grande tradizione di cui sarebbero tutti i difensori pali, ma dico, ma stiamo scherzando, stiamo. Perché? Se sei il difensore della tradizione del Magistero, la prima cosa che tu ascolti nel Vangelo, chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie voi, mi ha mandato in un contesto parallelo, Gesù aggiunge, chi disprezza voi, disprezza me, e chi disprezza me, disprezza voi, che mi ha mandato. D'accordo? Mi sono soffermato su questo, perché è più difficile accogli per gli uomini di Dio, come dire, istituzionali, che quindi marismatici. Perché l'uomo di Dio istituzionale può incontrare questo problema, che ha un altissimo ministero, e può avere una forte, troppo, una vita, non ha riguardo al ministero che svolge. Allora, voi ricordate sempre l'antare qua dentro, salutate il Santissimo Sacramente, guardate sempre con un'occhiava a San Francesco. E a San Francesco si è un grande ministro, Ve l'ho già detto tante volte, San Francesco, se trovava un pre, pubblicamente peccatore, in debito, lo portava apposta, sapete che faceva? Gli baciava le mani, anche qua, non gli baciava le mani come fanno a Don Salvatore, che gli avevano baciare le mani. Si bacia le mani con il sacerdote, anche con il vescovo, perché questi sono consacrati, perché non sono le mani sue, sono le mani di Gesù. Quindi quel gesto viene a riconoscere che questo può essere non criminale, ma quelle mani sono mani del Signore che possono consacrare. Io voglio vedere questo e tutto il resto non mi interessa. Se c'è, e se è grave, il nostro Signore lo farà ancora all'inferno, perché all'inferno si può pure con le mani consacrate, anzi, se si fa prima perché le mani consacrate non ce le ha se ti comporti male. Ma ci pensa il nostro Signore a farlo. È un po' più facile, ma non sempre, accogliere gli uomini e succedere allo Signore Santo. Non sempre, perché a volte il nostro Signore permette, siccome il diavolo sa rabbia quando vengono gli uomini di Diovedi, le donne di Diovede, i grandi santi, che cosa fanno? I grandi santi, cosa vedete, che si portano in un sacco di gente perché rendono dissimile, diva, quasi percepibile la presenza di Dio, anche uno che è montato, dice, guarda questo, ora Dio c'è, ora Dio esiste, allora se non parla non si sa, ma viene una chiesa, non c'è questo, faccio un lato. non è che il diavolo sta via e guarda, dice, ma adesso arriva il Padre Pio e questo mondo si porta via 10 milioni di persone, io lo lascio fare così come niente. Gli è scatenato il difetto e la storia della Chiesa è piena, voi sapete anche di grandissimi santi che hanno passato in guado anche con l'autorità che si è stile in fondo, gli ha permesso anche questo, che le calumni e tante altre dimensioni magari persuadessero qualche membro della Cierarchia e se trovasse in qualche momento guarda, sono tutti quanti uccidibili, però non lo soffrì, ecco, capito? Però generalmente è un po' più facile, ecco, bisogna sempre avere quello di scendimento perché come ci stanno i cattivi ministri di Dio, quindi gli uomini di Dio che non sono all'altezza della loro missione, purtroppo, e che ci complicano la vita nell'accoglierlo, ci stanno però pure i falsi, tanti, i falsi mistici, i falsi leggenti. Volete sapere un figlio infallibile per distinguere un vero uomo di Dio da uno che è un vero uomo di Dio a me? Lo vedete? Proprio, questo è infallibile, basta sempre sapere studiare la scuola di San Fino e di San Paolo, ormai non l'avreste dato. Cosa ha fatto San Paolo dopo che è caduto da cavallo, sapete la storia, no? Convertito e adesso sapete che è stato per tre anni nel deserto, durante quei tre anni, lui stesso raccontava che nel deserto aveva avuto esperienze mistiche, aveva visto il nostro Signore, aveva parlato con lui, aveva ricevuto liberazioni impressionanti. Cosa ha fatto San Paolo? Si era andato da testa sua e dice, beh, ormai il nostro Signore mi ha detto, figurate se io ho parlato di San Pietro, mi arriverà con le poste e dice lui, mi ha rapito fino al Terzo Ceno che c'ha bisogno del pescatore che chi ne sa, ha conosciuto Gesù ma non le sa che tutti gli stessi ha fatto così San Paolo? Naimo, è andato di San Pietro e ha detto, senti San Pietro, abbiamo fatto ghiacchia, a me mi è successo questo, questo, questo e questo e il nostro Signore mi ha detto che devi andare a fare la staggione per tutto il mondo, tu che ne dici? San Pietro ha detto, ma sì, io dico che quello che è successo in te viene da Dio, vai, fine, 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 l'uomo di Dio autentico lo si riconosce dalla comunione che conserva con la Chiesa Gerarchica, anche quando questa dovesse essere un pochino severa nei suoi confronti e dall'obbedienza che mantiene nei suoi confronti. Quando sentite un cuore, guardate quello che dico, comincia a parlare di Bami, anche con ottime ragioni è, ah, che va, va, inza dentro quella cosa che non va tanto bene secondo me. Le antenne, avete visto le antenne che stanno trizzando, no, adesso stanno a certi animali che si fa a subito rinno, brutto serio, i santi non l'hanno mai fatto così, mai, cioè, ai tempi di San Francesco c'è stato un certo soggetto nella gerarchia che Dio lo perdoni, ma scherziamo, San Francesco non è che era scello, perdonatemi il termine, forse non lo avevo ancora detto a tutti voi, cioè, che non lo sapeva, non era stupico, ma per quanto c'erano, non ci pensavano, lasciamo bene, preghiamo bene, e io intanto mi converto bene, divento santo io e prendo il Vangelo, lascia bene. Quindi a me si non concesso che ci dovessero essere nelle situazioni brutte, lo stile di uomo di Dio non è metterle in piazza, perché non è una bella cosa andate in giro che magari la prende per combinarli i colori, d'accordo? E io non voglio che sei su Facebook che ricombinaste molti colori, andamate a tutti e quattro, facciamo come con noi, mettiamolo su Facebook, sai che ho fatto? Ma è una cosa bella secondo voi, è una cosa costruttiva, è una cosa che viene da te, non è che bisogna dire bravo a una persona che faccia così, preghiamo e lui, d'accordo? Stop! Quindi l'istintivo dell'uomo di Dio autentico è la sua capacità di mantenersi in compito. Tale del punto, chiudo dicendo un proverbio antico che ci dava arrivati dalla Chiesa, nella Chiesa Cattolica dice questo che ci dice, altro grande che dice tutto, nelle cose necessarie dobbiamo essere tutti uniti, nelle cose che sono di fede, di morale non si risultano, d'accordo? Vi ricordo un vescovo che diceva a sentire, quando mi toccate la fede e la morale non si portano le cose di vita, d'accordo? Perché sono divinamente liberate, di tutti i resti possiamo parlare, delle processioni, se ne fanno, delle feste, dei morali, delle devoluzioni, parlano di tutti, d'accordo? Noi non ci ho, 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 della sala, di partire di Dio, però in tutte, la carità, la carità che comporta anche il rispetto, verso loro, che è Dio, posto in alto, nella Chiesa, a prescindere, con i loro meriti, con il ministero alto, che Dio solo, chiediamo a Dio tantissimo, la grazia per togliere gli uomini di Dio, che Dio ha sempre parlato, sempre rifiutato in una Chiesa, ieri, oggi, siate certi che in questo momento in una Chiesa pittonica, sono vivi, alcune persone che saranno preparate santi, 100%, sicuro, d'accordo? Sicuro, senza nessuno, Dio la Chiesa non abbandona, e ci provvede, della sua bontà, inviare, santi ministri, o comunque ministri, e santi suoi uomini, che siano in grado di metterci appunto in contatto con gli uomini di Dio, che facciano la ponte, e che le nostre vite possano entrare in contatto con il mistero meraviglioso della Chiesa. Siamo dati Gesù e Maria.